e consolatevi non siete voi non poste e non sarete nella prima nell'ultima guardate questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle ogni villa ogni borgo ogni paese è testimone di sue donnesche imprese Madameina il catalogo è questo delle pelle che ha voi il padre mio un catalogo rie che ho fatto io osservate leggete con me osservate leggete con me in Italia 640 in Lamagna 231 cento in Francia e Turchia non perdona mai in Spagna mai in Spagna sono già mille e tre mille e tre mille e tre ma fra queste contadine cameriere e cittadine la contessa la contessa e maranesse marchesana e principessa e vandone in ogni grado con ogni fr garage ogni frate ogni frate ogni frate ogni età Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.